La placata voi sonare, per la trama incontrare, e per la trama incontrare. E per la trama incontrare, ma non è un po' di più, ma non è un po' di più, ma non è un po' di più. Per e dare in attività, questo deve ricordare, Grazie a tutti.